Salve, bentrovati. In contributi video diversi in passato abbiamo variamente avuto modo di menzionare George Orwell, il quale è una figura centrale per la comprensione del Novecento e successivamente anche del nostro tempo. Quando si dice Orwell spesso lo si associa al Big Brother, il Grande Fratello, ossia all'idea di una società totalitaria o magari alla critica del socialismo e del comunismo, per limitarsi a questi pochi esempi. Tutti questi riferimenti, seppur genericamente corretti, non colgono però nel segno né l'oggetto proprio della critica a discorso orvelliano, né l'importanza fondamentale della sua opera, non soltanto da un punto di vista letterale. Orwell, nonostante abbia vissuto soltanto 46 anni, è un gigante del Novecento e per iniziare ad intendere la vastità e la profondità del suo discorso bisogna partire da lontano, come in ogni discorso culturale del resto. Per questo non è possibile riassumere Orwell in un magro discorso online e questa introduzione al discorso su Orwell che proveremo a fare qui verrà divisa in due parti. Questa parte che intitolerò prodromi all'opera di Orwell e poi una seconda parte in cui si parlerà in maniera più specifica di Orwell in quanto autore della sua opera. Del resto non si può parlare di Orwell iniziando il discorso in media res. Quando si parla di Orwell si parla di tutta una lunga tradizione concettuale che ha origine proprio alle origini del pensiero occidentale. In questo contributo proveremo a raccontare un po' di alcuni tra i testi più importanti che fanno da sfondo al discorso che farà poi Orwell e che è importante conoscere per contestualizzare e provare a capire quel discorso. Da dove partire? È ovvio che se noi parliamo di Orwell, è stato detto che il suo lavoro in particolare 1984, si fa anche ad esempio molto spesso l'errore di relegare Orwell a 1984 e alla fattoria degli animali, che sono i suoi lavori più noti, ma sono anche i suoi ultimi due lavori. Orwell è un autore molto molto più complesso che questi due testi che sono diversi dal suo stile precedente. Ma ovviamente 1984 è il testo che ha avuto l'influenza maggiore nella storia della cultura, nella società, l'impatto più grande. Allora ed è stato definito da molti come un'utopia negativa. sarebbe una distopia, però dicono appunto utopia negativa. Ma dov'è l'origine però? Se dobbiamo partire, se dobbiamo cominciare a capire questo discorso di questo mondo altro che Orwell crea, rappresenta, mette in scena, per indicare qualcosa sul nostro, mondo, dobbiamo partire da lontano. Dobbiamo partire sempre come al solito da Platone. La prima grande utopia della storia occidentale è la Politeia, che è stata poi tradotta con la Repubblica di Platone. La Politeia appunto è il programma di una società ideale, dunque un'utopia è... e la parola utopia ci viene a noi poi da moro, no? Ma quella platonica è... sono tentativi di rappresentare una società migliore rispetto alla società esistente. Platone crea molte di queste situazioni. Per esempio pensare che il mito di Atlantide, riportato nel Timeo e nel Crizia, e la storia di questo continente, di questa polisi immaginaria che aveva fatto guerra ad Atene, era stata sconfitta ad Atene, e una polis, un impero espansionista, egemone, in cui Platone in questo mito mette insieme tutta una serie di critiche all'imperialismo, mette anche un discorso sull'origine del sapere dei greci, infatti questa storia Platone dice, Socrate dice, Platone scrive quello che dice Socrate, proviene, come appunto nel Timeo dice, da una storia sentita e raccontata che era stata impartita a Solone, uno dei grandi sapienti della Grecia. ed era stata questa storia che proviene da Solone, a sua volta Solone l'aveva sentita in Egitto, perché i greci avevano questa, tutti i loro grandi sapienti erano andati in Oriente, il sapere greco, la trasmissione del sapere arcaico greco proviene ovviamente all'Oriente, rimangono tracce appunto nei miti, così in questo mito Platone mette insieme il discorso della Grecia, la critica all'imperialismo, perché questo grande impero poi verrà distrutto, che è una storia che ritroviamo anche per molti versi, e non lo so, nella Bibbia di queste città che vogliono sentirsi grandi, onnipotenti e poi vengono sconfitte, vengono distrutte dall'onnipotente, dall'eterno. Si troveranno anche echi di questi discorsi fino al Corano, con la distruzione dei popoli di Ad Eubar, il mito che nasconde sempre, il mito come discorso da leggere altrimenti. Però insomma è qui che inizia quest'idea di trasporre in un'altra dimensione, o passata, arcaica, oppure possibile da venire, il discorso utopico, cioè di una società che sia o migliore come quella prospettata da Platone nella Repubblica, la Acallipolis, o un impero che non era buono ed è stato cancellato dalla storia. Ora, poiché non vogliamo fare video di ore ed ore, salteremo adesso tutta la parte antica e medievale e si arriva e arriviamo al primo precursore moderno che sarebbe Tommaso Moro, a cui appunto tutti si riferiscono, a cui proviene appunto anche la terminologia, la nuova insula utopia. La differenza ad esempio che c'è già tra Moro e Platone è che mentre Platone delinea questi tratti, non delinea la società ideale, ma i tratti della società ideale, questa è una cosa sulla quale c'è molta confusione spesso, molti ritengono che la Politeia sia un manuale di attuazione della Acallipolis, non è così. Però Platone parla di questi passaggi, di queste fasi a cui si può da seguire per poter arrivare a questa città, a questa Polis, a questa Callipolis. Mentre Moro dice che in questo libro di questa l'utopia, dice che questo paese ben governato, immaginario, però esiste nella sua epoca, cioè traspone dal discorso futuro a un discorso esistente. Non è un caso perché l'utopia viene scritta o pubblicata nel 1516, cioè nel XVI secolo, che è appunto l'epoca delle grandi esplorazioni. L'America era stata scoperta, sono tutti grandi viaggi, tutti i grandi viaggiatori, i grandi esploratori che vanno in giro e non si sa ancora cosa si potrà scoprire. Allora c'è quest'idea, quest'immagine che da qualche parte ci sia già questa utopia, questa città ideale, questo luogo in cui gli esseri umani vivono in maniera positiva. e in un certo senso un altro libro del XVI secolo, che sarà pubblicato vent'anni dopo circa, però scritto nel periodo dell'utopia, perché Machiavelli scrisse questo curriculum che è stato poi tradotto e utilizzato e pubblicato come il principe, lo scrisse nel 1513, pubblicato poi nel 30-32. Ma infatti il De Principatibus, sui principati, era un'opera sui principati che poi è stato dato il titolo principe. Dunque anche questa è un'opera molto simile a quella di Tommaso Moro, però qual è la differenza? Se Platone parla di una città ideale, buona, bella dei principi della giustizia, dell'etica, Platone parla del suo opposto. Praticamente l'opera sui principati in molti versi è un libro su Atlantide. Sto facendo un riferimento scherzoso ovviamente, però perché parla di un principato negativo. Già c'è, sorge una teorizzazione sullo Stato che sarà poi insomma la teorizzazione obesiana. Obes è dal settecento, è del diciassettesimo secolo, la metà del 1600, pubblica del 1651, pubblica verità. Machiavelli 1513, dunque un secolo dopo poi abbiamo proprio una formulazione ancora più chiara di questo principio del fiorentino. 70 anni dopo Tommaso Moro e Machiavelli è uno dei più grandi autori italiani purtroppo poco ricordato che era Tommaso Campanella con la Civitas Solis, la città del sole. Anche questa è un'utopia positiva, un luogo in cui sono molto belle certe figure della città del sole di Campanella, ad esempio quando lui per risolvere il problema dell'istruzione immagina che in questa grande città che lui crea ci siano sulle mura scritte le opere sulla pietra le opere dei grandi pensatori del passato affinché colui che passa possa apprendere. C'è poi questa strada in cui ognuno legge il sapere sui muri, dunque anche qui così come era in Platone la città ideale, la città del sole fondata sulla conoscenza, sulla cultura, sul sapere. Il 600 sarà particolarmente prolifico da questo punto di vista però molto particolare e io lo dividerei in tre correnti. La prima sarebbe, come abbiamo detto, Campanella con la città del sole, dunque questo modello platonico, questo riferimento platonico con la conoscenza aperta, con la conoscenza pubblica per tutti. Poi c'è un altro modello poco ricordato che era la Christianopolis, abbreviata la Christianopolis, ma il testo era la Repubblica Cristianopolitana e Descripzio di Ioannes Valentino Sandrea, che venne pubblicato a Zurigo nel 1619, dunque poco, anche un ventennio dopo Campanella, ovviamente con fortune migliori, ma Ioannes Valentino Sandrea è anche importante perché è uno dei tre alle origini del movimento rosacrociano. Dunque già c'è questa biforcazione, mentre tu hai Campanella, interamente platonico, aperto, la cultura aperta, lo scopo dell'anime, quello di elevarsi eccetera eccetera, per tutti, Andrea è già più ristretto. Infatti poi dai suoi insegnamenti verranno fuori i discorsi dei rosacroci, che è un gruppo massone, insomma c'è tutta una storia lunga sui rosacroci, però insomma ci sono i rosacroci oggi che si attribuiscono quel titolo, rimando ai testi sull'argomento perché sono storieri. E poi abbiamo Hobbes con il Leviatano, cioè un'utopia negativa che rappresenta proprio quella costruzione, una distopia diremmo appunto, una costruzione, quella rappresentazione intellettuale di quel pensiero che è un pensiero antico, che è sempre questa cesura, c'è sempre questa cesura nella storia. Come abbiamo detto in Platone è il pensare di Trasimaco, la giustizia è l'utile del più forte, la sofistica. E poi c'è il platonismo invece, la conoscenza, l'ideale del buono, del vero, del bello. Questa cesura si mantiene costantemente nella storia. Hobbes appartiene ovviamente alla parte di Trasimaco, alla parte dei sofisti, alla parte di Machiavelli e di tutta quella gentupola che hanno anche fornito le giustificazioni ideologiche a coloro che dall'origine delle società storiche hanno deciso di essere, di dividere la società tra dominatori e dominati. Tutto lì, la cesura, vedete quando si fanno tantissimi discorsi che sembrano discorsi così grandi, così complessi, strutturati, ma se uno gratta, 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 vai e trovi sempre lo stesso discorso, sempre queste due forme. Non c'è mai stato, è impossibile nella storia dell'Occidente trovare un discorso che non vada o dall'una o dall'altra parte. Ovviamente quelli che vanno dalla parte di Hobbes, di Machiavelli sono la gran parte, quelli che andiamo dalla parte di Platone siamo la minoranza. Anche questo è un fatto che purtroppo sembra sia congenito alle società o al modo in cui li abbiamo interpretati. Dopo Hobbes stiamo facendo una carrellata molto lunga, molto molto rapida, perché si capisce che stiamo parlando di una storia culturale estremamente lunga e complessa. Ma dopo Hobbes ci sarà un altro autore importante che è Bernard Mandeville nel 1705 con la famosa favola delle api, quanto meno tradotta dopo come la favola delle api, da cui viene, che era un testo in cui Mandeville utilizzando questa immagine delle api e dell'alveare con questa operetta, che poi è un'operetta, si prendeva, si faceva beffe o criticava la società del XVIII secolo e i suoi costumi, i suoi sviluppi, ma anche la profonda ipocrisia sociale che lui si trovava intorno. Bisogna ricordare che Mandeville viene prima di Rousseau, dunque può essere considerato anche un precursore di Rousseau, perché Rousseau farà un'operazione molto simile, solo che la fa dopo, la fa molto più filosoficamente, mentre Mandeville scrive questa, da questa operetta di Mandeville viene fuori anche la frase che poi è diventata un luogo comune, vizi privati e pubbliche virtù, che riassume in un certo senso il contenuto di questa società utopica che descrive Mandeville. Qui inizia appunto, siccome inizia la modernità, si evolve, diventa sempre più complessa, allora inizia un discorso anche più critico, più pessimista. Ad esempio, pensate, 1705 Mandeville, il 1726 abbiamo Jonathan Swift con i viaggi di Gulliver, che è un testo, molti dicono che è un testo umoristico, ironico, è vero, è anche un testo umoristico, ironico, però è un testo incredibilmente pessimista, che in un certo senso sta rispondendo a che cosa? 200 erotti anni dopo sta rispondendo a Tommaso Moro, sta rispondendo all'utopia di Moro, facendosene beffe. Dunque, 1726, proprio per questa età, e poi abbiamo la metà del Settecento, dove inizia il discorso di Rousseau, il quale risponde proprio all'ideologia obessiana, in particolare nel discorso sulle scienze e sulle artiche del 1750, proprio la metà del diciottesimo secolo. Un discorso che verrà poi esteso e ripreso in maniera più metodica nel 1750 nel contratto sociale che ha come sottotitolo dei principi del diritto politico. Ora, molti dicono che OBS è in OBS che si trova... scusate, mi è venuto un po' da ridere perché ho pensato in questo momento, mentre stavo per dire questa cosa su OBS, che... perché volevo dire la... molti dicono che la storia, l'origine dello stato totalitario si trova in OBS. E mi è venuto da ridere perché ho detto, poi ci sono anche quelli che ti dicono quell'immensa corbelleria secondo cui l'origine dello stato totalitario è da ricondursi a Platone. Però ne abbiamo parlato, è un parlare al vento perché il discorso istituzionale è quello che dice, è così, è quello che dice, è così. Come quelli della terra piatta, è così. Va bene, come... perdonate la digressione ulteriore, ma è come quando vedi agli angoli di strada a questi signori con i testi di Jehovah Witnesses, i testi di Jehovah, o i mormoni, o gente che hanno queste ipercredenze, no? È così. Si mettono un qualcosa davanti al viso ed è così. Tu capisci anche la debolezza del dialogo, della conoscenza, perché anche se metti che uno per amore, per umanità, volesse fermarsi e cercare di aiutare queste persone, queste poveretti, non lo puoi fare. Non è possibile. Perché c'è quella barriera, no? Questo è forse il dramma più grande della modernità. Il rifiutarsi di accettare i fatti per i fatti, rifiutarsi di leggere la stessa storia contro la quale si batteva chi? Galilei. C'è quel famoso aneddoto di Cremonini, quando Galilei gli dice, guardi dentro, possiamo risolvere la questione molto facilmente, guardi dentro il telescopio, poi mi dice, no? E Cremonini gli disse, io non ho bisogno di guardare dentro il suo telescopio per sapere che la Chiesa è vera. Finito. Scorso chiuso. Quelli che dicono, ad esempio, Platone è l'origine del totalitarismo? Uno gli direbbe, ma fatelo a leggere, aprilo e poi ne riparliamo. No, è così. Io non ho bisogno di leggere Platone per sapere che è così. Con quanta sciocchezza ci troviamo ad avere a che fare oggi? E comunque, dicevamo, OBS, in cui si vuole fare risalire l'idea di uno stato totalitario. A mio modestissimissimo avviso, però anche questo non è così corretto. Perché un vero discorso sul totalitarismo e dello stato totalitario è invece possibile soltanto a partire dal Novecento. Questo dovrebbe già iniziare a farci riflettere. Tornando alle utopie, eravamo a Rousseau. Poi abbiamo appunto il Novecento. Il Novecento ci sono tantissimi pensatori, però sarebbe troppo complesso. Limitandosi proprio al tema delle utopie. C'è un altro autore che è interessante ricordare, che è verso la fine dell'Ottocento. Perché è interessante? Perché in un certo senso riassume tutte quelle idee che sorgeranno nell'Ottocento, che sono quali? Bisogna ricordarsi che Marx, Engels, Proudhon, sono tutti autori dell'Ottocento. E c'è infatti questo socialista americano, che si chiamava Edward Bellamy, che scrisse nel 1888, proprio quasi alla fine del secolo, un testo dal titolo Looking Backward 2000-1887. Guardando indietro sarebbe, non so come l'hanno tradotto in italiano, ma sarebbe guardandosi indietro 1887-2000. Cioè lui voleva dire dal 1887, quando lui ha finito di scrivere il libro pubblicato nell'88, lui immaginava l'anno 2000. Nell'immaginare l'anno 2000 lui vedeva una società americana completamente cambiata, una società socialista in cui l'ingresso, perché ricordarsi che appunto l'Ottocento è l'epoca della rivoluzione industriale. Dunque lui vedeva nella rivoluzione industriale, in queste macchine che consentivano una produzione enorme, dunque anche un ricavo economico enorme, così come oggi, lui vedeva che la produzione di queste macchine nel 2000 sarebbe stata messa a disposizione di tutti. Dunque i proventi di questa produzione sarebbero stati per tutti. Dunque le persone sarebbero andate in pensione a 40 anni. È un romanzo appunto di questo genere, ispirato un po' dalle idee dei trascendentalisti americani, da Whitman, da Thoreau, Emerson, ma pensate che per molto tempo vi furono in America anche delle società, così come ci sono questi gruppi che uno ogni tanto vede, ci sono dei piccoli uffici della Christian Science, così c'erano anche questi piccoli uffici, queste sedi in cui si poteva andare a discutere e parlare del pensiero di Bellamy in America fino all'inizio della prima guerra mondiale. Cioè questo vedere un futuro, vedete, questo Bellamy potrebbe essere visto come il contrario di Orwell. Un'utopia socialista positiva in cui gli uomini degli esseri umani del futuro avranno tutto quel, coglieranno i frutti di una società dell'abbondanza. Che non è un discorso folle, cioè anzi è un discorso, è folle il discorso. La cosa paradossale è perché noi abbiamo bisogno così tanto della follia oggi? Perché quello che facciamo è il prodotto della follia. Quello che dice Bellamy, quello che dicono moltissimi di questi attori è la sanità mentale. Noi abbiamo scelto la strada della follia, noi abbiamo scelto appunto di avere, da qualche parte ho letto che nel mondo ci sono 67 persone che hanno lo stesso, la stessa quantità monetaria del resto del pianeta. Questa è follia, abbiamo scelto questa follia. Dunque abbiamo anche dovuto costruire tutto un marchigegno che succede sempre quando bisogna venire a patti col delirio. Bisogna costruire tutto un mondo immaginario, tutta una realtà fatta a forma delle categorie del lupo. Ed è esattamente quello che facciamo noi, quello che succede. Bellamy. Che è del 1888? Subito dopo abbiamo un altro gran personaggio che molti forse non metterebbero in questa classifica, in questa serie di discorsi che sto facendo, ma io lo voglio mettere perché è rilevante a mio avviso, che è Gustave Lebon, che era questo erudito francese che tra i suoi tanti libri scrisse anche questo trattato nel 1895, lo stesso anno di pubblicazione della macchina del tempo di Wells, che si intitola Psicologie des Fouls, la psicologia delle folle. Un testo sulla folla, sulla gestione della società molto amata da Mussolini e da Hitler, in cui si comincia a costruire questa immagine di una società composta da folle, folle che sono dominate e controllate attraverso una serie di criteri e sistemi sociologici, scientifici, ideologici. Non a caso, infatti, perché ricordavo che è importante che il testo di Lebon sia stato, sia dello stesso anno della macchina del tempo, perché anche la macchina del tempo è un'utopia. Non ci si pensa spesso, ma la macchina del tempo è un libro che parla di questo signore che va nel futuro, un futuro enormemente lontano per noi, e la specie umana è stata ridotta a due classi, o due tipi, che sono tipi umani anche ormai molto diversi. Gli Eloi, quelli che stanno in superficie, che sono questi spensierati che non fanno altro che cantare, danzare, dormire, mangiano frutta e godono di questa natura incontaminata. E i Morlock, che sono questa specie, questa sottospecie umana, di individui abbrutiti che vivono in queste catacombe, che infatti utilizzano macchinari, marchi ingegni, e che ogni tanto di notte salgono sopra, si prendono uno di questi, come sono cannibali, e se li mangiano. Molto bella quella parte, bella, terribile, quando il personaggio, appunto, nel libro di Orwell trova una biblioteca del futuro, entra, vuole scoprire che cosa è successo in tutti quegli anni, e i libri gli si spappolano tra le mani, perché gli Eloi non hanno bisogno, non hanno nessun utilizzo per i libri. Queste sono proiezioni di una situazione concettuale che andava delineandosi sempre più e sempre meglio. Infatti, nel 14 avviene la più grande catastrofe della modernità, che è la prima guerra mondiale. Lì è il punto di rottura. È il punto in cui queste idee, utopie negative, questa visione negativa dell'uomo che emergeva qui e là sporadicamente, perché l'idea dell'Ottocento, fino all'Ottocento, la belle époque, era l'idea di una società spinta, portata, indirizzata verso il futuro di pace, di prosperità, di benessere, di fraternità. Non certo quello che avvenne nel 14-18. Anche lì ci sarebbe da fare un discorso, un giorno lo faremo sul tema della prima guerra mondiale, perché nello scoppio della prima guerra mondiale ci sono tanti discorsi che culturali andrebbero fatti. Infatti, dopo la prima guerra mondiale cosa succede? Tutto lo scompiglio che avviene in Europa, Weimar, questo e l'altro, e abbiamo poi tre eventi fondamentali, presa dal potere di Stalin, 1922, guarda caso, stesso anno della marcia su Roma, e poi 1933, presa dal potere di Hitler. Due anni dopo la presa del potere di Stalin, se voi andate a leggere uno dei libri dove parlano dei precursori di Orwell, troverete adesso soltanto questo libro che io vi sto citando solo adesso, che è un libro scritto scritto dal russo Yevgeny Zamyatin, dal titolo Noi, Wir. E questa è proprio un'utopia, una distopia, che assomiglia molto a 1984, che Orwell lesse, da cui Orwell si lasciò ispirare. infatti il Noi del titolo, questa società totalitaria in cui l'individuo non esiste più, il Noi indica l'identificazione dell'individuo con il gruppo. 1924. Tu finisci di essere un Tu, un Io, e diventi un Noi. Ora, a questo punto io direi che c'è anche un altro precursore di Orwell che, a quanto io ne sappia, non è mai stato ricordato, non viene mai citato in questo contesto. Ma il 1925 è l'anno in cui viene pubblicato un libro scritto tra il 14 e il 15, sia nel mezzo della Prima Guerra Mondiale, pubblicato postumo dal titolo Le Prozesse, il processo, di Franz Kafka. 1926 verrà poi pubblicato, sempre postumo, Il Castello, da Schloss, scritto nel 1922. Perché il processo e il castello sono dei precursori di Orwell? Perché Kafka è il primo che, con una grandezza abissale, comincia a scavare dietro, comincia a grattare sulle pareti di cemento di questa società, comincia innanzitutto a mostrare quest'individuo smarrito nel mondo, smarrito di fronte alla legge, smarrito di fronte alla società dei suoi simili. Il processo è un testo proprio su questo. Joseph Kahl, il protagonista del processo, è un personaggio paradigmatico. È molto simile, per tantissimi aspetti, molto simile a Wilbur Smith del 1984. È colui che si trova dentro il sistema. Poi, ad un tratto, a causa di un'accusa, forse di una calunnia, esce fuori da questo sistema. Non è che ne esce fuori lui, si trova ad essere messo fuori da questo sistema. E lui comincia la sua ricerca. Infatti, una delle cose che fa Joseph Kahl, quando lui va nell'aula, in quest'aula del tribunale deserta, vuota, apre i libri della legge, il Gesetzbücher, e si accorge che invece di, che sono dei codici ben rilegati, però quando li apre, invece di paragrafi legali, ricordarsi che Kafka era uno studiato legge, invece di paragrafi, codicilli, codici, eccetera, sono in realtà delle riviste sconce ben rilegate. Kafka sta facendo proprio questa operazione, sta dicendo, guardate che dietro tutto questo apparato, e non ci limitiamo a questo esempio, perché altrimenti dovremmo parlare di Kafka e basta, perché è un mare magno, ma dietro questo esempio c'è proprio questo discorso, l'apparenza dietro la realtà della sociale. C'è quel discorso di quella cesoia stabilita di cui parlavamo prima, tra la società in cui il codice dovrebbe essere, che cosa? Non la legge di Trasimaco, secondo cui la giustizia è l'utile del più forte, e invece è quello, perché dire quello che dice Trasimaco significa dire, affermare un principio antitetico al principio della giustizia, che vuole che ci sia uguaglianza, che non vuole che la realtà sia determinata da chi detiene i mezzi. Kafka fa proprio questo nel 1925. Questa gente si trova anche in momenti cruciali per la storia, nella storia umana. Il castello è la stessa cosa, nonostante sia un testo che Kafka scrive molto dopo. Il castello visto da lontano, Kafka dice nel racconto, sembra imponente, ma poi quando ci si avvicina si vede che sono soltanto poche casupole, baracche, una specie di villaggio disadorno. La distanza che il castello ha bisogno di imporre per imporre i propri dettani. Questo è un discorso sostanzialmente, anche questo è un discorso che farà Orwell, in maniera diversa. Dunque io metterei Kafka come un precursore, indubbiamente anche Kafka come un precursore di Orwell. Un precursore a quel discorso che poi farà, che svilupperà Orwell. Un altro grande precursore, sempre di questo periodo, del 1929, sarà Ortega e Gasset. con un testo prima pubblicato come saggio e poi come libro nel 1930 che si intitola La Rebellion de las Massas, La ribellione delle masse, in cui lui appunto fa capire, parla di come la massa si imponga ormai sul concetto dell'individuo, ma in realtà la sua è una critica anche all'individualità contemporanea. Infatti nel libro lui parla spesso del signorito satisfeccio, il signorino soddisfatto, quello che vuole essere titillato, che vuole la Disneyland, che vuole il programmino, il programmino che non lo faccia pensare, che tutto si deve abbassare, che quando apre, che se apre un libro complesso dice ma non si potrebbe fare più semplice, che vuole ridurre tutto alla propria misura, il signorito satisfeccio, e vuole giudicare il mondo sulla base di un giudizio quantitativo. Quante persone hanno detto che questo è buono? La classifica dei libri, ad esempio, i best seller. Quando un libro ha venduto centomila copie, allora è il libro che il signorito satisfeccio compra. io dico sempre se un libro e la classifica dei libri mi aiuta perché se è lì non ho bisogno di comprare. Però questo atteggiamento di chi dice quello che ho appena detto viene considerato come arrogante. Mentre l'arroganza vera è quella del signorino satisfeccio, è quella che Gadda riassumerà nella mentalità della signora Cesira. Diceva oggi tutto deve essere ridotto al livello della signora Cesira. Quella è l'arroganza più grande. Però in una società del contrario dove qualche è basso è alto e qualche è alto è basso. Dopo Gassè, dopo Ortega e Gassè del 29, avremo finalmente Aldo Saxley con Brave New World. Brave New World è del 32. Da ricordare che Aldo Saxley fu insegnante di Orwell a Eton. Sono le cose meravigliose di quell'epoca che non succedono che non possono più succedere oggi. Tu hai Axley che insegna. c'è anche una famosa lettera molto interessante da questo punto di vista da Axley vs Orwell sulle similarità e differenze nei loro lavori. Dunque ancora Orwell ricordiamo con tutto quello che abbiamo letto ancora Orwell non ha pubblicato 1984. 1934 1934 era pubblicato nel 49. Cioè abbiamo 32 Brave New World. Poi abbiamo nel 1940 siamo nel mezzo del in questo io non sto raccontando che cosa faceva Orwell in questi periodi perché ne parleremo dopo. Orwell qui aveva già scritto era stato nella guerra di Spagna aveva 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 già una 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 produzione letteraria culturale enorme dicevamo nel 1940 abbiamo un altro testo fondamentale di Arthur Köstler che Darkness at noon è la storia di questo personaggio Rip Van Winkle che è prigioniero Rubashov è il protagonista scusate Rubashov è il protagonista Van Winkle è quello della 402 Rubashov è il protagonista che si trova che era un funzionario di partito eccetera e si trova nella cella in 404 mentre Van Winkle questo questo personaggio che continuava sempre a gridare sorgete o miserabili dalla terra si trova nella 402 perché mi ricordo Van Winkle perché Van Winkle è come è bello il dialogo della cultura Van Winkle è un personaggio era un personaggio inizialmente di Washington Irving che verrà poi ripreso anche dallo scrittore svizzero Max Frisch che ne fece un testo teatrale che si prima del noto homo faber Van Winkle era la storia di questo personaggio di Washington Irving che è un signore che scompare dal suo villaggio perché e dorme per vent'anni quando perché non poteva più di sentire la moglie che lo tormentava poi quando torna tutto è cambiato una specie di Ulisse al contrario è una storia sui generis però è interessante questo fatto che il personaggio di Washington Irving è non comparabile con Köstler però con il personaggio di Köstler è un personaggio che non ne vuole più sentire del mondo una specie di di Bartleby the scrivener di Mel Bartleby lo scrivano che di fronte alla richiesta che gli ponevano diceva sempre preferirei di no I prefer not finché viene ripudiato respinto messo e portato ai margini della società ma Winkler invece se ne va nella campagna e dorme dorme per vent'anni è curioso è interessante che Köstler riprenda il nome di questo personaggio per farne un carattere della cella 402 che parla con Rubashov attraverso un codice Morse e anche qui Köstler è un libro è un libro infatti di questo di questo funzionario che del partito comunista che sono tutti libri che appunto si ispirano a quella esperienza l'una o l'altra quelle esperienze totalitarie del novecento per questo dicevamo un discorso sul totalitarismo è possibile soltanto nel novecento non mi puoi dire che Hobbes sta facendo un discorso sì ha delle implicazioni ma il discorso il totalitarismo è qualcosa che noi conosciamo abbiamo conosciuto a partire dal novecento e questo dovrebbe appunto indurre un po' a pezzare e Köstler Arthur Köstler era fra l'altro anche molto amico di Orwell a tal punto che poi verrà coinvolto in certe discussioni relative all'ascito di Orwell dalla vedova Sonia in particolare sulla pubblicazione di una biografia perché Orwell era contrario all'idea di pubblicare una biografia sulla Orwell insomma dopo questa carrellata voi direte ci siamo arrivati siamo finalmente al 49 quando Orwell pubblica 1984 che ha questo titolo perché l'idea gli venne nel 1944 anche se il libro poi venne pubblicato nel 49 e nel 44 84 Orwell morirà sei anni dopo la la pubblicazione del libro anche 1984 ne parleremo appunto ha tutta una storia straordinaria Orwell che si ritira su quest'isola per scriverlo perché capisce di essere in fin di vita ma non è finita qui perché Orwell crea anche la possibilità di ritornare al suo discorso secondo altre voci infatti subito dopo tre anni dopo la morte di Orwell uscirà il famoso Fahrenheit 451 Fahrenheit 451 di Ray Bradbury questo libro in cui esiste una società appunto totalitaria in cui è vietato leggere non tanto dissimile dalla nostra solo che loro li bruciavano i libri noi invece di bruciarli li sostituiamo noi prendiamo un libro vero e lo sostituiamo con uno finto ma lo chiami libro sì ma sì io posso anche chiamare penna questa ma se poi non scrive sì è una penna tutti gli effetti è una penna ma non scrive è giusto il nome è giusto ma non scrive quello che facciamo noi mentre nel Fahrenheit 451 i libri li bruciano c'è un po' una squadra che va a cercare quelli che posseggono dei libri e brucia i libri e loro questi colloni dopo ancora alla fine degli anni 50 il discorso orvelliano assume una direzione molto più elegante e sofisticata che sarà il discorso di Ionesco Ionesco scrisse un pezzo teatrale geniale che si intitola i rinocerotti rinocerotti che mi sia permessa questa la prima dei rinocerò fu nel 1960 in Francia perché a quanto pare aveva un'altra a Düsseldorf nel 59 ma la prima francese fu il 22 gennaio del 1960 al teatro dell'Odeon di Parigi alla Place dell'Odeon che è a due passi dalla Sorbonne ed è proprio di fronte casa di Emile Sioran che era un amico di che era un grande amico di Ionesco io immagino la prima a cui Ionesco imita Emil Sioran che epoca che epoca dove la cultura era lì era lì era per strada la si respirava la si toccava la storia dei rinocerotti è un libro appunto è breve è bello è interessante da leggere perché molti hanno detto che i rinoceronti parlano in realtà il riferimento è all'epoca nazista in cui la Gestapo è un'interpretazione però bisogna leggere il testo per il testo e la storia inizia proprio con questi signori che parlano e un caffè si credo un caffè e poi gli appare un rinoceronte e il rinoceronte quando appare comincia a creare scompiglio come è evidente però a dispetto dello scompiglio creato dal rinoceronte quando questo appare c'è un filosofo che invece di preoccuparsi del rinoceronte inizia a spiegare un curioso sillogismo ad un anziano signore sillogismo è quello il gatto ha quattro zampe Isidore e Fricò hanno ciascuno quattro zampe dunque Isidore e Fricò sono due gatti l'anziano a cui il filosofo parla gli dice ma allora se continuiamo a ragionare in questo modo il mio cane ha quattro zampe allora secondo quanto lei mi dice il mio cane sarebbe un gatto e il filosofo assentendo al discorso dell'anziano aggiunge un altro sillogismo i gatti sono mortali ma anche Socrate è mortale dunque Socrate è un gatto comunque il testo ha queste queste andrebbe letto passo riga per riga discusso ma Berger che è uno dei protagonisti il protagonista del romanzo a un certo punto dice non riesco ad aver coscienza di me stesso non so nemmeno se sono proprio io ed è l'unico che ha paura una paura terribile di prendere la rinocerite perché cosa succede ad un tratto le persone cominciano ad essere sostituite da rinoceronti fino al punto in cui i rinoceronti diventano la maggioranza cosa ci ricorda Ortega e Gasset la rivolta delle masse la maggioranza che diventa dominante e infatti Berger dice je suis le dernier homme je le resterai jusqu'au bout je ne capitule pas io sono l'ultimo uomo e lo resterò fino alla fine io non mi arrendo o io non capito a me personalmente questo mi ricorda una cosa nel mito di Prometeo si dice Prometeo dichiara di non voler cambiare la sua misera sorte legato alla rupe con quella di Ermete che invece fede agli dèi che Prometeo si sa aveva sfidato a Mecone ma per Prometeo diversamente da Ermete la libertà è più cara anche della sua sorte atroce della quale è pronto a pagare il prezzo questo messaggio potentissimo e fortissimo oggi la nota frase di Rousseau del preambolo del contratto sociale con cui diceva l'uomo è né libre e partout il è dans le faire l'uomo è nato libero e ovunque si trova in catena dovrebbe oggi venire riformulata con alla libertà è stato un posto un prezzo e questa è la nuova catena che lega i contemporanei ai capricci delle oligarchie ora siamo passati dai precursori di di Orwell prima del 49 dopo il 49 dunque è questo Bradbury e vorrei citarne un ultimo prima magari di chiudere perché credo che abbiamo fatto un po' tardi l'ultimo grande precursore di Orwell epigono di Orwell e Herbert Marcos infatti questa associazione è stata fatta anche da un tizio un accademico che poi è andato per le sue solite storie però ha notato anche lui questa associazione tra Marcos e Orwell infatti l'uomo ad una dimensione the one dimensional man è un libro fortemente orientato ed influenzato da questa nuova paranamica che anche Orwell apre sul novecento ma Orwell in maniera determinante ed è anche la risposta sociologica filosofica a questo al problema sollevato da Orwell da Orwell in maniera così brillante ossia dell'autonomia dell'individuo in una società che che non che non vuole più riconoscere l'individualità ma soltanto il potere l'individuo che per che in questo tipo di società deve pagare l'autonomia con la deprivazione della libertà con l'esclusione con la tortura come il caso di Winston Smith il caso di Rubaschow in Köstler eccetera eccetera Marcuse gli dà una nuova lettura mostrando come questo tipo di sistema produca un individuo a misura di questo sistema il discorso è estremamente bello ed estremamente complesso Dorwell vedremo nel prossimo discorso è colui che di fronte ad una società di questo genere una società come era la società inglese della sua epoca orientata verso l'imperialismo verso lui era stato parte del marchigegno dell'imperialismo lo dice ci sono alcuni dei suoi scritti dei suoi primi scritti che sono straordinari da questo punto di vista ebbene Orwell a mio avviso a mio modestissimo avviso come tutti come tutta quella carrellata di precursori di cui abbiamo modestamente parlato dice io resisto come come dirà Berger sono l'ultimo sono l'ultimo uomo resisto qualunque cosa che qualunque cosa costi ma in realtà la vera assoluta resistenza di cui parla Orwell e di cui parlano tutti questi si coincide si si sintetizza e coincide con una sola frase io penso grazie